Il termine buddace diventa un marchio registrato che verrà utilizzato per birra, abbigliamento e gadget. L'intento è quello di promuovere i prodotti messinesi in tutto il mondo. A breve sarà in funzione la piattaforma e-commerce per poter fare acquisti. Ci sono due linee di t-shirt, sia la moderne che la vintage. Poi ci saranno le cover dei telefonini e poi prodotti come la birra artigianale e le bevande della produzione siciliana. Tutto questo per richiamare la messinesità e portarla avanti in tutto il mondo. Come si potranno acquistare poi queste cose? Tutto quello che riguarda l'abbigliamento e il merchandising sicuramente sull'e-commerce, sulla piattaforma buddace.com. Per quanto concerne invece le bevande che sono birra e bevande analcoliche, prettamente in questo momento, noi fisicamente, e poi da fine marzo c'è una trattativa in corso con una grossa distribuzione che è ingrosso che c'è in carri. Come è noto, il buddace è un pesce dalla bocca grande che vive nelle acque dello stretto e buddaci sono stati da sempre definiti messinesi. Parolai che si autoesaltano, dicono grandi cose che mai realizzeranno, con una grande bocca sempre aperta. L'intento del marchio è proprio quello di ribaltare questo concetto. Beh, diciamo che è un nomignolo che, tra le ricerche che abbiamo fatto, dico abbastanza conosciuto a livello mondiale. Vogliamo prettamente ribaltare di quelle sorti di questo significato e farne la cosa positiva del messinese, invece di essere negativa, positiva. Quindi un'impresa. Ambiziosi le prospettive che, come anticipato da Alberto Palella, presidente di Confesercenti, il marchio potrà essere inserito anche nel mondo del franchising. Noi siamo al fianco di questo progetto Startup con Salvo Marabello. Abbiamo creduto in questa idea e tramite il nostro laboratorio lo stiamo supportando per una crescita, come facciamo anche con altre piccole realtà che vogliono creare impresa. In questo momento io penso che è fondamentale dare supporto a chi vuole creare impresa e poi nello specifico questa è un'idea veramente innovativa. Grazie a tutti.